ciao a tutti ci troviamo di nuovo in questo postaccio perché dopo un paio di volte che sono morto nel boss precedente diciamo dalla donna peccatrice insomma lì sono ricordato che qui probabilmente non avevo visto qualcosa dove c'erano le mummie sui forum qualcuno ha detto che praticamente c'è detto io sono sono morto saltando con un babbeo perfetto come adesso praticamente sembra che ci sia una zona che assomiglia molto a un vecchio livello la zona oscura insomma maledetta insomma quella dove c'erano tipo delle palafitte insomma cosa del genere insomma e si vada per di là io volevo almeno vedere di andare un attimo giusto che sono attualmente bloccato visto che ho poche umanità disponibili ne ho sei avevo intenzione di bruciarmi due o tre li ho persi giocando con dei babbioni che mi hanno fatto morire quindi ho pensato magari di farmi aiutare mi hanno fatto morire invece in verità quindi non ho tanta possibilità di farmi aiutare se no l'avrei già fatto ecco e sempre nei forum c'è chi dice che uccidendo è porca di quella puttana cazzo e 2